Subito palla al regista della squadra che allarga a destra verso il giocatore d'esperienza Palla al terzino che sale sulla fascia sale grosso sulla fascia palla che si perde sul fondo dribbling obriacante riesce la Veronica veronica attenzione numeri 25 scarta l'avversario tanti auguri a te tanti auguri a te salta il difensore il difensore spazza miracolo del portiere il cucchiaio vuoi e faccio il cucchiaio fa la barba al palo liscio 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 rimessa laterale bomber ragazzi e dai che il bomber è nuovo e basta tino di piatto papera del portiere cannoniere attenzione sciabolata morbida tiro telefonato arriva eh ok ok grazie sì grazie per la linea la partita è appena finita cerchiamo di fermare ciao grazie la partita è stata un po' sottotono tu cosa ne pensi guardi non lo so se è stata sottotono però avendo stato il giocatore è proprio un bastardo vabbè il mister ha riposto le fiducia e io penso va bene grazie grazie qui c'è la punta di peso della squadra tu cosa ci dici ma va a fare un culo e abbiamo qui l'uomo che per le statistiche è stato colui che ha corso di più 103 chilometri come ci si sente squadra molto unita che ha supportato il portiere che esce da una da un caso di droga lei non si droga più vero? la tagliamo la tagliamo la tagliamo quindi non ha sentito attra